Effettivamente è passato tanto tempo dall'ultima top di questo tipo, quindi direi di fare una breve introduzione. Prima di tutto, ciao ragazzi, io sono Axel e vi do il benvenuto in questa nuova top a tema Isekai con protagonisti OP. Come sempre è doveroso specificare che questa classifica è la terza di questa serie. Oltre a questa e alle due precedenti, ho fatto classifiche simili, quindi cerco sempre di non riportare lo stesso anime troppe volte, altrimenti il tutto diventa monotematico. Questa classifica si basa ovviamente sui miei gusti personali e sul fatto che ho già portato almeno altri 20 Isekai prima di questi, quindi non posso reinserirli in questo stesso video, spero che siate comprensivi, ma fatemi come sempre sapere cosa ne pensate e soprattutto la vostra top personale al riguardo. Beh detto questo, iniziamo. Direttamente dal 2013 ma nel 2022, un protagonista silenzioso, poco loquace, che non ha mai esprimere appieno ciò che pensa, ma veramente badass con dei poteri fortissimi, che tiene nascosti il più possibile in un anime che secondo me non esprime al meglio il potenziale dell'opera stessa. Yuji è un mago con dei poteri assurdi, magie fuori dal comune che lo rendono veramente imbattibile e probabilmente il più forte mago al mondo. Per questo infatti ha ottenuto il titolo di saggio, proprio durante le sue ricerche sulla magia. Egli era un semplice lavoratore in una black company in cui veniva sostanzialmente sfruttato fino alla morte per affaticamento. Una volta risvegliato quindi in questo nuovo mondo, decide di evitare di fare lo stesso errore della sua vita precedente. L'anime parte praticamente con Yuji, che è già padrone delle sue capacità, ma durante il corso dei primi episodi vi saranno dei flashback che mostreranno come ha ottenuto tali poteri e per questo preferisco evitare di approfondire l'argomento così da non farvi spoiler. Se siete curiosi, dategli un'occhiata. Quanto sarebbe comodo essere evocati in un altro mondo ma con una spada OP che permette a chi non ne ha mai nemmeno vista una col binocolo di trucidare un esercito di banditi esperti come fossero fatti di burro. Ecco diciamo che questo è proprio quello che succede a Michio. Un ragazzo che dopo aver avviato un gioco online viene trasportato direttamente in quello stesso mondo di gioco e nonostante la sua partenza non sia delle migliori fra scelte che sarebbero dovute essere più ponderate e dettate dall'ingenuità e la semplicità tipica di un ragazzo giapponese nella media evocato in un altro mondo il punto più alto per Michio è letteralmente la scoperta di poter acquistare delle schiave per poterci fare quello che vuole. Insomma il titolo dell'anime lo avete letto no? L'ho comunque inserito in questo video perché nonostante sia più lecci che l'action e quindi potreste dimenticarlo facilmente Michio è capace di usare qualunque skill voglia grazie al fatto che può scegliere quale classe adoperare oltre alla sua utilissima capacità di creare portali ovunque unica nel suo genere. Insomma sì lo si guarda per lecci ma Michio resta comunque OP. Un protagonista OP con il corpo di uno scheletro con skill che nessuno possiede a parte lui e non stiamo parlando di Overlord. Questo è uno dei pochissimi zekai per cui avevo le aspettative alle stelle poco prima della sua uscita e che nonostante non sia per niente brutto diciamo che a primo impatto mi ha deluso un bel po'. Dai trailer mi aspettavo qualcosa di esageratamente violento con un protagonista nella parte di tra virgolette giustiziere e con lo stesso carattere almeno esteriormente simile per l'appunto a quello di Ainz di Overlord ovvero un personaggio molto arrogante e pienamente conscio delle sue capacità. Questo purtroppo non è Ark, il protagonista di quest'opera, un ragazzo che dopo essersi addormentato durante una partita online si risveglia nel corpo del suo personaggio in un altro mondo con tutte le abilità che aveva in gioco. Le sue capacità sono particolari e l'ho inserito in questo video proprio per questo motivo. Infatti possiamo dire che si è specializzato in quasi tutto ma esperto in niente e queste sue skill nel gioco non erano chissà quanto rotte ma una volta ritrovatosi in questo nuovo mondo essendo praticamente l'unico a possederle risulta essere più forte di quello che sembra quindi mi è sembrato giusto inserirlo almeno in ottava posizione. Ora passiamo un attimo ad un protagonista P ma in un altro senso del resto i poteri magici e la forza fisica non sono l'unico modo per rendere imbarazzantemente forte un personaggio. Esiste infatti la conoscenza ed è praticamente il potere di Leon. Questo ragazzo che originariamente sarebbe stato solo un mob sullo sfondo adesso invece risulta essere a sua insaputa il protagonista degli eventi principali ma partiamo dall'inizio. Il tutto comincia quando il nostro protagonista viene ricattato dalla sorella che gli chiede di finire per lei uno tome game orribile perché curiosa di vederne il finale ma poco volenterosa di vederlo da sé. Dopo aver perso probabilmente giorni di sonno questo ragazzo lo finisce e per sua sfortuna cade dalle scale e perde la vita proprio mentre andava a comprare qualcosa da mangiare. Di colpo quindi si risveglia nel corpo di Leon in un altro mondo ma non in uno qualunque bensì in quello del videogioco che ha finito che ha cominciato ad odiare per via del suo essere un minestrone di generi fatto male ed estremamente difficile. Fortunatamente per Leon gli eventi del gioco non sono ancora accaduti e grazie a questo decide di approfittare di alcuni oggetti che potrebbero aiutarlo a rendergli la vita più semplice in un mondo malato in cui gli uomini sono trattati come oggetti e nient'altro. Insomma sicuramente un bell'anime da seguire a maggior ragione se vi piace il genere. Come dimenticarsi di Diablo il protagonista OP per eccellenza con uno degli harem più interessanti del mondo anime ma quest'ultima informazione lasciamola per un altro video. Diablo è letteralmente perfetto per questo video è un mago potentissimo che si atteggia a signore dei demoni con delle capacità fisiche e magiche fuori dal comune con un equipaggiamento rottissimo e soprattutto con un'arroganza sfacciata che riesce a renderlo almeno un protagonista interessante nonostante la sua caratterizzazione sia piattissima e il personaggio in sé in due stagioni praticamente non evolva mai infatti sin dall'inizio rimane lo stesso personaggio che all'interno si sente intimidito e in imbarazzo per ogni cosa essendo in realtà ovviamente un giapponese che è stato evocato nei panni del suo personaggio in un altro mondo mentre all'esterno resta un fierissimo signore dei demoni che però cade spesso sotto le mani del suo harem che gli faccio che tutti in cuor nostro vorremmo ci facesse shera e chi mente è soltanto un bugiardo quindi sì Diablo merita assolutamente di stare in questa classifica e se la seconda stagione fosse stata almeno interessante quanto la prima probabilmente lo avrei inserito più in alto parlando di protagonisti OP non posso sicuramente dimenticarmi Falma un ragazzo che visto nel complesso è tutto sbagliato e non sono io a pensarlo bensì i personaggi che interagiscono con lui praticamente senza farvi troppi spoiler Falma è un'entità che nel mondo materiale e soprattutto nel periodo in cui si trova il mondo in cui è stato isegaizzato e fuoriposto in qualunque modo lo si veda nella sua vita precedente era un medico di fama mondiale divenuto tale a seguito delle sue ricerche quasi ossessive su delle possibili cure a delle malattie incurabili questo per via della perdita prematura di sua sorella proprio per via di una di queste malattie crescendo ha dedicato tutto se stesso alla medicina e alla ricerca al punto da stremare il suo corpo all'inverosimile di fatto il motivo per cui muore è proprio la stanchezza data dal troppo lavoro dopo essere morto si reincarna in Falma un bambino colpito da un fulmine in un altro mondo figlio di un medico di corte che coincidenza una volta risvegliatosi ed aver appreso di essere morto inizia a scoprire le sue nuove capacità e fra poter creare qualunque tipo di materiale e farlo sparire una potenza magica fuori dal comune e la capacità di individuare qualunque tipo di malore in una persona semplicemente guardandola direi che Falma con le sue conoscenze provenienti da un altro mondo è perfetto per la quinta posizione in questo video Allora, allora forse con Mile mi sa che abbiamo esagerato con le supercazzole il primo personaggio femminile a cui penso se si parla di protagoniste OP negli Isekai è proprio lei un personaggio divertente buffo con una sua effettiva profondità seppur molto poco profonda ma sicuramente schifosamente overpower Mile originariamente era una ragazza di nome Misato ma che a seguito di un brutto incidente ha perso la vita e si è reincarnata in un mondo fantasy prima di completare la sua reincarnazione ha chiesto alla divinità in questione di renderla una ragazza nella media dato che nella sua vita passata ecceleva in tutto e per questo non riusciva a farsi dei veri amici ma a quanto pare gli dei hanno problemi di comprendonio dato che Misato sì viene reincarnata in una ragazza nella media ma nella media fra la creatura meno potente al mondo e quella più potente risultando praticamente essere una delle creature più potenti ben oltre la media umana per questo le sue capacità magiche e fisiche sono fuori scala per chiunque di fatto Mile tenta spesso di nascondere la sua potenza così da sembrare una ragazza normale e durante il corso della sua avventura forse potrebbe riuscire a farsi delle amiche ma questo lo scoprirete da soli un isekai molto diverso dal solito che inizialmente ammetto pensavo fosse una ciofeca nata per parodizzare gli anime di questo genere in cui il protagonista non si reincarna in un umano barra umanoide ed ero pronto a dargli a malapena la sufficienza fra l'altro solo per la protagonista femminile che poi è anche il centro della storia i due protagonisti sono una spada e una ragazza gatto di nome Fran la spada è ovviamente un umano che è morto nel suo mondo e si è reincarnato in quest'arma senziente OP che riesce a fronteggiare mostri pericolosissimi senza problemi diventando sempre più forte e rendendo più forte anche chi le impugna mentre la ragazza gatto Fran è una creatura facente parte della razza dei Black Cats una delle poche se non l'unica razza a non potersi evolvere a razza superiore il suo sogno come quello dei suoi genitori è proprio quello di evolversi e di mostrare alle altre razze di non essere loro inferiore e grazie a Shishou la spada senziente coprotagonista di Fran il viaggio per raggiungere il suo scopo può avere finalmente inizio non vi dirò né come né quando perché preferirei gli deste una possibilità a voi stessi a discapito delle apparenze merita veramente tanto Adesso si parla di eroi ma con le maiuscola nel linguaggio videoludico sarebbe praticamente uno smurf ma non vi spiegherò il perché dato che qualcuno potrebbe considerarlo spoiler vi dico solo che questo è l'ennesimo caso di anime Isekai con un protagonista schifosamente OP che risolve quasi ogni problema senza sforzo ma con le sue piccole peculiarità infatti Seiya è un umano evocato dalla dea Ristarte per salvare un mondo in preda alla distruzione da parte del signore dei demoni e data la sua affinità al ruolo di eroe per Ristarte è sembrato sin da subito un compito più che fattibile ma Seiya è un ragazzo eccessivamente cauto forse ben oltre l'estremo la sua calma e la sua freddezza nell'affrontare qualunque situazione gli si pari davanti sono in contrasto netto con l'eccessiva cautela che ha nei confronti di qualunque evento gli capiti ovviamente questo è fonte di scenette comiche con Ristarte che condiscono benissimo l'anime di comicità per 10 episodi in modo da dare l'ammazzata emotiva proprio alla fine preparate i fazzoletti Se si parla di protagonisti OP non posso non inserire sua eminenza oscura Sid Cagheno un ragazzo che definire con la sindrome della terza media sarebbe riduttivo eppure comunque fin troppo pericoloso Sid era un semplice liceale che sin da piccolo sognava di ottenere un potere assoluto da usare dietro le quinte ma che durante il suo percorso per raggiungere il suo obiettivo è morto per un incidente stradale al suo risveglio però si è ritrovato in un altro mondo ed ha deciso di continuare a perseverare per raggiungere il suo obiettivo e nel tempo non solo ha ottenuto dei seguaci ma ha anche guadagnato un potere smisurato così grande che penso sia doveroso paragonarlo ad una divinità a parte quindi i suoi deliri da maniaco della sceneggiatura perfetta Shadow è un'entità fuori scala che non ha mai trovato nessuno alla sua altezza e che si è comunque scontrato con nemici formidabili senza affaticarsi quasi mai mostrando di essere capace di sopravvivere anche ad attacchi quasi letali insomma il protagonista perfetto per chiudere questa top direi di aver detto tutto per questo video spero che il ritorno delle top 10 vi faccia piacere fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate se non vedevate l'ora tornassero video di questo tipo dato che cercherò di portarvene più spesso come sempre vi invito a condividere il video coi vostri amici per fargli scoprire qualche Isekai che potrebbero essersi perso e ad iscrivervi nel caso non lo siate così da supportare il canale e a non perdervi i prossimi contenuti che vi porterò beh direi che anche per oggi abbiamo finito noi come sempre ci sentiamo alla prossima